Il presidente della Commissione Garanzia e Controllo, Stefano Palumbo, dice no alla strumentalizzazione della sua commissione, che ieri si era riunita, per parlare della faccenda del presidente della Gran Sasso Acqua, Alessandro Piccinini, e della sua presunta inconferibilità. Palumbo ritiene grave ciò che è successo ieri, perché nel corso del confronto che si stava svolgendo in maniera senrena in comune, la Gran Sasso Acqua, nello stesso momento, inviava le dichiarazioni del responsabile per la prevenzione della corruzione della trasparenza, Raffaele Giannone, che ha disposto l'archiviazione, come si sa, del procedimento aperto su segnalazione dell'autorità nazionale anticorruzione, per la presunta inconferibilità dell'incarico di presidente della Gran Sasso Acqua all'avvocato Piccinini, che aveva il precedente incarico di liquidatore degli aeroservizi. Lo stesso Giannone, che era presente in commissione, nello stesso momento, insomma, arrivava il comunicato, una scorrettezza, secondo Palumbo. L'ho ritenuto inaccettabile il modo in cui la Gran Sasso Acqua ha operato relativamente alla commissione di ieri, perché mentre si teneva la commissione veniva inviato un comunicato stampa, proprio dalla Gran Sasso Acqua, con le dichiarazioni del responsabile della prevenzione per la corruzione, con una commissione ancora in atto appunto. Era semplicemente una commissione, una presa ad atto delle posizioni, tra l'altro diverse, dei ruoli di vigilanza, perché c'era pure stata invitata il responsabile dell'organo di vigilanza, il collegio sindacale e anche i commissari avevano espresso delle opinioni. Doveva essere solo una giornata di confronto istituzionale, senza finalità di carattere politico, ha spiegato Palumbo in conferenza stampa. Sembra quasi che si volesse far passare l'idea che la commissione avesse avallato la tesi pur legittima di Giannone, ma non è così. Anche i commissari avevano delle perplessità. Per Boccaloro, dice inoltre Palumbo, emerge che ci sono altri approfondimenti di altri organismi. Ritengo veramente inopportuno, anche in virtù del fatto che, a margine proprio a conclusione della commissione, era emerso un fatto anche sostanziale, ovvero quello di, da parte, diciamo per Boccaloro, di indagini giudiziarie ulteriori all'ANAC in corso e quindi non vorrei che passasse l'idea che la commissione, quindi che si utilizzasse strumentalmente, l'occasione di ieri per far passare l'idea che tutta la commissione si fosse espressa, quindi a sostegno della tesi sostenuta giustamente e regittimamente dal responsabile per la corruzione. Così non è e quindi ci tenevo a difendere l'onorabilità e la serietà della commissione e per questo ho ritenuto di fare questa conferenza stampa.